E ora parliamo del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni che è un organo, un organismo anzi del Consiglio del Piemonte, un'autorità preposta a garantire i cittadini anche in caso di controversie con le grandi compagnie telefoniche. Un servizio gratuito ed è stato presentato a Palazzo Ghilini ad Alessandria dal presidente del Corecom Alessandro De Cillis. Ci racconta tutto, De De Vinci. In provincia di Alessandria oggi presenta il Corecom per una conferenza stampa di presentazione, soprattutto forse di spiegazione ai cittadini di un servizio importante che fa il Corecom, presidente. Beh, innanzitutto festeggiamo un anno del nuovo comitato e questa è sicuramente un'occasione importante di festeggiare, essere presenti qua nella provincia di Alessandria. Abbiamo notato che la maggior parte delle conciliazioni arrivano nella provincia di Torino a livello regionale. Cosa vuol dire? Che probabilmente i torinesi sono più litigiosi? Probabilmente no. Sicuramente dobbiamo lavorare sulla maggiore percezione del servizio all'interno di tutte le province. Per questo abbiamo deciso di andare provincia per provincia a raccontare ai sindaci e ai cittadini quali sono i nostri servizi. È un servizio gratuito, è un servizio eccezionale, è la gestione della controversa nei confronti degli operatori telefonici, quindi tra utenti e operatori. E per dare dei numeri, l'anno scorso sono stati restituiti ai cittadini 1.550.000 euro, che è una cifra sicuramente importante. Quindi facciamo in modo che anche i cittadini della provincia di Alessandria siano al corrente di questo servizio che è gratuito ed è del Consiglio regionale. Quindi un cittadino che adesso sta guardando la televisione e sente questa possibilità di avere una conciliazione con la compagnia telefonica, sta litigando e si rivolge al Corecom in che maniera? Beh, si rivolge al Corecom presentando la domanda online e poi la cosa fantastica è che noi, prima regione in Italia, offriamo l'opportunità a tutti i cittadini di effettuare la conciliazione in web conference presso le URP di ciascuna provincia, che è un bel vantaggio, non bisogna venire fino a Torino a consumare dei moduli, ma possono venire direttamente qua. Quindi un primo contatto online e poi si prosegue, giusto? Sì, contatto online oppure telefonicamente, via mail, le modalità sono diverse, noi siamo sempre disponibili, nell'ottica che sempre di più andiamo verso l'informatizzazione, quindi più avanti nel corso degli anni, nel corso dei mesi, avremo anche un nuovo sistema a livello nazionale per la gestione delle conciliazioni. E addio al bonus bebè, arrivano noi.